...e non ce li ha giustificati, perciò di conseguenza non avvia, ma questo non è stato fatto mai da nessuno perché noi rispettiamo le persone, prima di tutto gli elettori che li hanno contati e poi la giustificazione principale che è quella del lavoro, perciò voglio chiudere questa questione non c'è niente di personale, è quello che rispettiamo di voler accusare a nessuno praticamente a quanto meno la sua persona detto questo, io voglio dire questa cosa, noi abbiamo un malato, questo malato è grave, è nella nostra città tutto potremmo fare tranne di creare ancora tensione e fibrillazione, cioè io vi dico una cosa, c'è il mio padre la risultatrice nella mia famiglia e nelle nostre famiglie siamo stati abituati che il bene lo teniamo così e lo rilasciamo ancora a poco, perché se il frigorifero è pieno, è giusto che il bene viene attiviso per la propria famiglia ma se il frigorifero è vuoto, è buono con gli elettori, è buono e basta, allora ci devono ruovare il padre alla responsabilità di dire ai figli che noi dobbiamo forse ingerire una cinghia, questa è la situazione, per i debiti, ma com'è può essere giustificabile, noi abbiamo fatto le pulce a qualcuno, c'è gente della vecchia amministrazione che ha fatto 40, 45 mila euro di missioni, capite quello che voglio dire io, l'ho aggiunta praticamente era nelle stesse condizioni, allora c'era un antasso che era quello, qualcuno potrà giustificare, sì, ma noi abbiamo fatto queste missioni perché giravamo per andare a trovare finanziamenti o qualcosa del genere, soldi e compagnia appena, ma la problematica la problematica è su un tampeto, sono i debiti, uno stato del visorio della regione, banca e tutte altre problematiche che avevano indiretti, perciò significa, è vero che questa gente per gli digitari di città di soldi evidentemente stavano qua a raccomandarsi dei loro figli, io questo voglio dire, e non è un'accusa di confronto in discorso, noi siamo consapevoli di aver trovato una situazione e la situazione è questa, è questa la situazione, uno stato del visorio con un buco di condominionabile portata, allora significa noi cosa possiamo fare? Il coglione Pallocino parlava di i vostri figli, ma noi chi siamo? Noi chi siamo? Siamo gente prestata alla politica, tolte dalla nostra famiglia e messe qua per operare per il pericolo i fatti lo dicono, perché invece di fare 40, 70, 80 mila euro di missioni, noi abbiamo comprato un'auto lo possono certificare per vedere tutti i movimenti dei nostri autisti, la macchina esce ogni giorno, istituzionalmente noi giriamo, marchiamo la merca per andare a trovare le risorse finanziarie, per salvare l'ente del popolo perché il popolo è una situazione che ha la banda rotta, e nessuno si può permettere di dire che quelli facevano, portavano, no, perché è in un'altra pubblica amministrazione, io vi dico attraverso quello che penso io e penso che è la cosa più normale, e allora che significa? C'è una programmazione, è una alternatività, e allora la programmazione dell'amministrazione precedente ricade sull'altra amministrazione e così via dicendo, perché il professore è stato più possibile, è stato prospetto a trovare un contesto temporale più favorevole per trovare qualche finanziamento, non è espertizia, cerchiamo di essere chiari, non è capacità, è l'attitudine ad andare a compilità a tutto quello che è necessario, noi lo stiamo facendo, qualcuno può dire che non li avete più amici, ma dai entriamo su un angolo molto pericoloso e non ci voglio andare, torniamo al no, io dico, dico una cosa, quest'altro per me, per me è un atto illegittimo, certificato da tante altre cose, abbiamo delle sentenze veramente a favore, dove dicono veramente delle cose e dove c'è un tipo di fatto che il consiglio comunale, quello che sta facendo questa sera non lo può fare, non lo può fare, perché noi abbiamo sentenze del 2006 o 2007, io vorrei leggerla però forse, forse mi nonostante dice che la competenza praticamente dell'Aggiunta, c'è il consiglio alla responsabilità di deportare praticamente all'Aggiunta la procedura, poi l'Aggiunta fa tutti gli atti necessari per far sì praticamente che poi venga valutata, gestionata, compagnia, poi la rimandata dalla proposta, voi siete convinti in questa maniera? Noi ce ne andremo, c'è un problema, voi lo sapete, ma in ogni caso non dovete sapere una cosa, dovete sapere una cosa, io questa vicenda non so come andare a finire, però c'è gente da questa parte che è convintabile dopo la mattina andarsene a casa, non c'è bisogno che rimandate voi, perché qua noi, 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 stiamo operando veramente ben bene da tutto, e io vorrei poter dirlo un po' forza sincerità, non c'entra né che dobbiamo ridimensionare, perché alla fine vedendo un assessore o un assessore si inibili di tutti, comporta 10 mila euro l'anno, contro tutto lo sfraggello che c'è, lo sfraggello che c'è, non siamo certo noi la problematica, ma se voi dite così, ovviamente, fatelo, poi ci sarà un seguito perché non vi si permettono. Per quanto riguarda le altre problematiche, io vi dico una cosa, si sta innescando un meccanismo di vereri, io dico sempre c'è il malato in mezzo alla casa, cerchiamo di malmarci tutti quanti e cerchiamo di operare per il meno la comunità, voi siete convinti in questa maniera e si aprirà una stagione di vereri, perché significa scendere in armati, ce ne sono a centinaia e ce ne sono a migliaia. Non ci fate, non ci spingete, perché avete a fare cose che noi non abbiamo fatto e che non vogliamo fare. E' un punto. Grazie. La parola consigliere. Grazie. 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 che in qualche modo si è cercato, ho visto, diciamo, qualche consigliere un pochettino aiutato, si è rinascito, non rinascito, mi scusa volete, tu cosa è buono, si, una cosa che effettivamente mi sta tornando strano, stranissimo, perché io effettivamente, mi dovete vedere, se mai ho assistito, quasi Giovanni, dalla città 30 anni, o che, per tanto che riguarda il sottoscritto della città 30 anni, non mi era mai capitato il successo vedere delle situazioni, perché se vedete che c'era, forse troppo nervosismo, si sentite in grado, perché io, da quegli anni che consigliere, diciamo, tipo Sambuccio, già non lo volevo conoscere, effettivamente io non vorrei che fosse così, però inviterei a essere invitato un'altra persona, per il consiglio di orare di me, da diverse volte, da diversi consigli comunali, ricamare se è un professore, se non mi raccoglio, cosa è il punto, io che ti sento, io fai e ti dice, ma il consiglio di orare, lei deve sapere una cosa, ripeto, il Presidente, c'ha una maggioranza, problema che non ce n'ha, però se vuoi dire una cosa, cosa è quella di non accusare soltanto il Presidente del Consiglio, perché il è un grande timonista e credo che a questo mondo non lo so, non lo so, non lo so, che non lo so, che significa, perché tu, la primorezza che va a... Grazie. Grazie.